buongiorno a tutti ho pensato lungamente se registrare questo video o meno ma siccome vedo che la situazione non sta affatto migliorando anzi tutt'altro ho deciso di farlo in questi mesi quando è iniziata la pandemia legata al covid 19 alias coronavirus mi sono documentato tantissimo guardate ci tengo a sottolineare una cosa non ho guardato un telegiornale non ho guardato nessuna trasmissione televisiva e non sono certo stato ad ascoltare le panzane che sono state raccontate a destra e sinistra come mi sono documentato vi spiego molto semplicemente mi sono documentato leggendo tutti gli articoli pubblicati su scientific american di cui c'è l'edizione italiana le peribili se volete che si chiama le scienze se non avete il cartaceo potete recuperarlo in digitale e vi consiglio di farlo se volete essere veramente documentati vari articoli sulla national geographic society e non ultimo il numero che è uscito questo mese proprio che è dedicato specialmente trovate il video sul canale al covid 19 ma non sono contento di questo non ero contento di questo e allora cosa ho fatto avendo la fortuna di conoscere due epidemiologi virologi mi sono permesso di fare alcune domande a loro sulla situazione sul perché il per come perché dovete sapere che quando tutto sembrava tornato alla normalità hanno aperto i bagni al mare hanno aperto le discoteche le palestre hanno riaperto i bar hanno fatto gli assembramenti c'era la movida nei parchi la gente era senza mascherina ed erano uno sopra l'altro io ero molto preoccupato perché questi virologi con cui avevo parlato e che sono tornato a parlare in questi giorni mi avevano detto guarda che questa qui è la quitte prima della tempesta perché quando arriverà la brutta stagione arriveranno i primi freddi e faccio notare che i primi freddi quelli veri non sono ancora arrivati non sono ancora arrivati mentre sto parlando oggi 6 novembre 2020 c'è un clima ancora diciamo fine fine estate neanche autunnale per cui per cui quando mi hanno detto non abbassare la guardia non abbassare la guardia io mi sono fidato tant'è tant'è che ho promulgato questa mia diciamo fra virgolette cautela a mio padre al mio fratello ai miei suoceri al mio cognato cioè a tutte le persone ai miei amici e tutte le persone cui io voglio bene non abbassate la guardia non fidatevi non fidatevi perché in autunno e soprattutto in inverno il virus tornerà più forte di prima più forte di prima purtroppo purtroppo la gente dimentica la gente oggi si spaventa domani passato tutto invece questa è una pandemia che non va sottovalutata perché adesso come si era già detto nel mese di aprile di maggio stai cominciando a colpire anche fasce di età inferiore ai 60 anni e 70 anni comincia colpire i trentenni i quarantenni e addirittura ci sono i primi casi di bambini positivi al coronavirus allora voi mi direte ma come si fa max il mondo deve andare avanti andiamo tutti in bancarotta ci sarà il default ci saranno le aziende che falliscono i negozi che chiudono le attività che vengono interrotte è ovvio io l'anno scorso anzi quest'anno non ho fatto neanche un matrimonio io faccio i matrimoni come fotografo neanche uno l'anno scorso ne ho fatti 12 quest'anno neanche uno fate i vostri conti fate i vostri conti non c'è bisogno di fare conti in tasca gli altri ci sono state facevo i corsi a parma ho dovuto inventarmi corsi online che stanno andando bene ringraziando il cielo dovevo fare una mostra in un luogo molto bello di parma non l'ho potuta fare l'ho dovuta rimandare l'avevo rimandata a novembre ma di fatto non ve l'ha fatta neanche novembre dirigo una rivista che si chiama camuse che per motivi ovviamente di organizzazione radazionale dobbiamo incontrarci trovarci perché non possiamo farla online e quindi abbiamo dovuto spostare l'uscita del numero 5 sarebbe dovuto uscire a ottobre e invece probabilmente uscirà o a dicembre o gennaio insomma quello che io voglio dirvi in questo video è non abbassate la guardia io non voglio darvi insegnamenti di quello di quell'altro quello che dovete fare quello che non dovete fare perché io non sono nessuno per dare degli insegnamenti io vi dico soltanto una cosa evitate di andare nei luoghi affollati evitate gli autobus evitate le cresime le comunioni a messa guardatevi la messa del papa in televisione cercate di evitare gli autobus andate non andate nel supermercato stendete la distanza andateci solo se avete bisogno se andate per la spesa panificio mi raccomando aspettate che vostro turno se fate la coda all'usl o all'asl che dir si voglia o dove dovete andare rispettate le norme sanitarie mettetevi la mascherina da fastidio anche a me io non la sopporto quando esco con il cane me la basso perché sono da solo ma se mi imbatto di una persona me la alza me la metto rispetto mio soprattutto rispetto degli altri perché signori il covide il covide non guarda in faccia nessuno prende tutti ma il problema non è tanto che covi magari vi possa provocare una cosa brutta perché probabilmente un giovane sano non morirà mai di covide fortunatamente fortunatamente ma magari voi avete un nonno che non sta bene una persona anziana qualche persona che ha delle patologie e voi bellamente fregandovene delle regole fregandovene del rispetto degli altri attaccate la malattia al vostro a un vostro caro perché tanto dite se attacco la malattia un altro che me frega però se vi muore il nonno vi muore il papà vi muore la mamma la nonna è un po diverso giusto perfetto quindi io vi esorto veramente con tutto il cuore è un appello che voglio fare a quei pochi che vedranno questo video perché sicuramente non essendo un video sulla juventus lo vedranno in pochi ahimè vorrei che avesse questo video 20.000 visualizzazioni non certo quelli sulla juve che mi fa piacere è ovvio ma vorrei che la gente capisse che vanno rispettate le regole non abbassate la guardia se fate un lavoro dove siete a contatto con le persone e siete costretti ci mancherebbe altro perché dovete guadagnare portare a casa la micca state attenti c'è la gente se ne frega se lavorate in un bar penso i miei amici che lavorano in un bar state attenti ragazzi non fidatevi a quelli che lavorano come il mio amico ludone una scuola se andate a scuola se sono ancora aperte state attenti alla mia amica alessandra che anche è lavoro in una segretaria di una scuola state attenti non abbassate la guardia perché purtroppo il contagio fino a che noi ci muoveremo come abbiamo sempre fatto non finirà mai anzi i miei amici virologi con cui ho parlato recentemente due giorni fa per la precisione mi hanno detto che il picco dovrà ancora arrivare se il governo con tutti i difetti che può avere con tutte le cose che non vi piacciono perché anch'io non è che amo molto i governi degli ultimi anni dell'italia però se il governo sta monitorando settimana per settimana le famosissime zone no la verde la gialla e la rossa che sembra come dice mio amico giulio un risico no il verde può attaccare il giallo ma il rosso non può attaccare il giallo cioè robe di questo genere ma se lo sto facendo a parte le battute lo sto facendo perché qualcosa sta accadendo c'è qualcosa di vero non potete negare non potete negare che ci sia qualcosa di vero perché io conosco personalmente persone che hanno il coronavirus l'hanno passato stanno guarendo ma lo riconosco personalmente sono positive io sono convinto che se ognuno di noi facesse il tampone almeno almeno il 50 per cento risulterebbe positivo almeno almeno il 50 per cento ne sono convintissimo ne sono convintissimo perché chi è asintomatico ovviamente guardate i giocatori di calcio che tantissimi sono positivi ma stanno benissimo non hanno neanche una linea di febbre quindi mi raccomando adesso sta incominciando a colpire avete visto no catellan di x fatto carlo conti della rai sta cominciando a colpire ha colpito variatore colpito berlusconi cioè sta incominciando ad espandersi quando poi vengono colpite le persone famose i vip fra virgolette la cosa diventa più eclatante noi dei vip ce ne dobbiamo sbattere ce ne dobbiamo fregare noi dobbiamo pensare alla nostra salute alla salute dei nostri cari e al benessere della nostra vita per cui mi raccomando signori non sottovalutatelo questo è il messaggio che vi mando non vi dico di fare o non fare non sottovalutate il covid 19 perché ricordatevi che quando si sfida una malattia e purtroppo il cancro non è l'esempio la malattia non perde mai a perdere siamo sempre noi ciao